ragazzi cercherò di essere il più schietto e sincero possibile con voi in modo che passi il messaggio enak ha rotto i co ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale io sono michele e forse non tutti sanno che il lo scorso 31 dicembre 2021 è terminato è scaduta la possibilità di convertire i nostri attestati patentini a una tre ma anche gli a due tramite il portale ufficiale enak questo cosa significa significa che chi non ha convertito i propri attestati necessari per volare legalmente e presi a pagamento non gratuitamente insomma abbiamo sborsato soldi reali per conseguirli beh potrà usare ora questi bellissimi fogli di carta come carta igienica in quanto parole della stessa enak non valgono più nulla nemmeno in italia ora ragazzi vorrei poter dire quello che penso ma non posso purtroppo youtube censura alcune parole e quindi devo cercare di contenermi ma se tu cara enak questo è il mio patentino conseguito proprio dal portale italiano al costo di 31 euro mi fai conseguire un patentino a pagamento e scrivi chiaramente che la sua validità è fino al 2025 quindi cinque anni dopo il suo conseguimento perché se io non lo converto per un errore di forma che può essere un'immagine troppo piccola e non ha norma un carattere in maiuscolo invece che che no ecco perché mi rendi il mio patentino inutilizzabile è sostanzialmente illegale trovo che sia davvero assurdo inoltre mi chiedo perché tu cara enak che nel suo database hai tutti i dati le mail del degli utenti dei piloti che hanno conseguito il patentino a una trella testati a due sul tuo sito non hai mandato tu stessa questi attestati convertiti quindi quelli legali quelli a norma nelle nostre mail ma hai aspettato che noi ci adeguassimo come utenti finali cioè se tu lente se tu che devi provvedere a questo non noi ok il mio attestato è volato da qualche parte ma ok tanto che è carta straccia è quella la fine che deve fare ma lo recupero tra poco per non inquinare ma tranquilli ragazzi perché fortunatamente enak lavora per noi e infatti dopo aver ricevuto centinaia se non migliaia di mail di protesta da parte di utenti che non era una conoscenza infatti non è stata inviata nessuna mail per avvisarci di questo cambiamento insomma dopo tutte le mail di protesta dagli utenti dai piloti che hanno conseguito a pagamento gli attestati tramite il portale ufficiale di enak beh si stanno adoperando e forse ci faranno il favore di aprire una nuova piccola finestra temporale in cui poter convertire i nostri patentini e attestati avete visto come sono carini ma attenzione non non inviate gli ulteriori mail di protesta di indignazione perché loro non le vogliono sono addirittura stizziti come potete leggere nella risposta che hanno dato a questo mio iscritto quindi lamentiamoci ma silenziosamente insomma ragazzi cosa dire queste sono le solite assurdità all'italiana io ho conseguito un patentino un attestato a pagamento valido carta canta letteralmente fino al 2025 e invece mi viene invalidato solo per un errore di forma che non dipende da me attenzione ma dipende dall'ente da enak vabbè sarò stupido io ragazzi però continuo a non capire bene amici volevo aggiornarvi sulla situazione se avete conseguito l'attestato recentemente non dovrebbero esserci problemi se l'avete conseguito come me nel 2020 invece avreste dovuto convertirlo vi terrò comunque aggiornati sulla finestra temporale per la conversione che forse ci daranno in futuro invece per quanto riguarda il famoso fortunatamente attestato patentina 1 a 3 conseguito tramite il portale lussemburghese corrispettivo di enak gratuitamente in modo infinitamente migliore rispetto al nostro ed è un dato oggettivo basta fare i due esami per rendersene conto non dovrebbero esserci problemi inoltre è gratuito quindi potenzialmente potremmo anche conseguirlo nuovamente anzi io vi consiglio proprio di conseguire il patentino l'attestato a 1 a 3 dal portale lussemburghese trovate video in cui ne parlo la scheda qui in alto a destra oppure qui sotto entrate nel mio canale telegram ufficiale tech best steers cercate patentino gratuito lussemburgo e trovate i link per ottenere in circa un paio d'ore di studio e imparando comunque le basi necessarie per volare in sicurezza e non per diventare astronauti come ci richiede un po l'esame sul sito di enak o almeno questa è la mia impressione beh entrate su telegram cercate patentino gratuito lussemburgo e in un paio d'ore riuscirete ad ottenerlo senza nessun tipo di problema questo è tutto amici io vado a piangere a bruciare i miei attestati enak infanto ormai sono carta straccia ma ora sapere voi cosa ne pensate fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto dite la vostra e se questo video vi è piaciuto potete supportarmi lasciandomi un bel like se avete trovato questa notizia interessante inoltre condividete questo video a tutti i vostri amici è gratuito bene io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre a cui vogliate sempre qui su adx su tech alla prossima ciao ragazzi